E' un progetto molto importante, ringrazio ovviamente chi ne dà in qualche modo lustro per questa regione a livello nazionale perché è preso ad esempio anche dalle altre regioni e dal Ministero della Salute e perché tra l'altro incide molto su uno dei fenomeni principali per ammodernare il sistema sanitario regionale. La programmazione sanitaria del futuro non può fare a meno di quelli che sono veri e propri comportamenti di vita alimentare e motoria in grado di ridurre i costi ma in grado di dare e forrire anche più salute. E pertanto credo che sia un elemento centrale nel futuro per riscrivere una programmazione sanitaria moderna, sostenibile e continuare a erogare questo diritto alla salute come diritto universale da poter prestare a tutta la comunità regionale. Si inserisce in questo ambito il progetto di cui oggi discutiamo e che si concluderà in questa doppia giornata di vera e propria formazione ha un valore aggiuntivo perché oltre al carattere divulgativo il progetto entra invece in quello che è il vero campo, la vera scommessa cioè fare formazione affinché il modello dei comportamenti entri come patrimonio culturale innanzitutto degli operatori e poi della comunità regionale.